Ciao astronomi! Il focus è un elemento cruciale in una performance di telescopio, specialmente in l'astrofotografia e i refractori sono il tipo di più popolare di telescopio per l'astrofotografia. Oggi voglio mostrare come rinunciare il tuo set-up per rimanere il tuo focuser standard con il nostro esatto! Iniziamo! Iniziamo! A pochi anni fa i refractori, anche i modelli apocromatici, erano abbastanza cari. Ora sono diventati più affidabili, rendendo loro la scelta preferente per l'astrofotografia tra gli astrofotografi mondiali. I refractori apocromatici offrono fast optics, eccellente color correctioni, grazie a specializzati corretori, e relativamente corti focali, permettendo di usare i modelli con affidabili, compatte monti. Inoltre, si vengono sempre con i focuser di più qualità. Vi vediamo frequenti refractori con eccellente lente, con i focuser di fabbrici che mangiare la capacità di weight-load e la precisione. Questo limita il telescopio usato con le cameras di astronomi moderni, che hanno diventato più grandi e più pesanti, come le dimensioni di sensore aumentano. Iniziamo l'esatto! Grazie ad un'attesa di attenzione di adattori per molti refractori popolari, puoi facilmente riempire il tuo focuser standard con l'esatto. La prima cosa a considerare è la dimensione dell'esatto che bisogna, basato sul tuo refractor. Since l'esatto è disponibile in diversi diametri, up to 4 in, potete necessari un modello più se il tuo refractor viene con un grande correttore. Per esempio, l'esatto 2 in, è perfetto per gli EvoStar 80, 100 o 120 mm refractori. Puoi collegare questi refractori con l'esatto 2 in, usando l'adaptor appropriato che abbiamo designato per questi telescopi. Inoltre, se usate un reducer di focalizzazione per il tuo telescopio, puoi direttamente threadato per l'esatto draw tube. For larger models, and those designed to provide a large corrected image circle with low-ignetting, you can use the larger esatto models, as demonstrated with the Esprit 120ED refractor. The adapter we designed for this refractor also includes an adapter to attach the corrector to the esatto 3 inches. Note that many refractors come with focuser that have very long draw tube trouble. When you replace the focuser with the esatto, which has a shorter draw tube trouble, you may need esatto extensions. These extensions are available in different versions, based on the esatto model you choose. Some refractors use a reducer or corrector installed inside the focuser instead of after it. In these cases, when replacing the stock focuser, ensure the esatto focuser you choose has enough pre-aperture to fit your corrector. For example, the Takahashi FSQ106 requires the esatto 4 inches, while the Borg 107FL f3.9 and Takahashi FSQ85 require the esatto 3 inches. Refractors are excellent telescopes for astrophotography, and the esatto is the perfect focuser for them. With the esatto you can maximize your refractor potential, even for the most challenging astro-imaging sessions. For more content that will help you to explore the universe like a pro, subscribe to our channel and ClearSkies! And I'll see you in the next video, please! Bye! Bye!